segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ha un altro percorso e le sue critiche diciamo così già luigi l'hai mosse per tempo no quello che oggi vediamo scatenarsi nel nel movimento e volevo chiederti non tanto cosa ne pensi perché ce l'hai detto già all'inizio ma se effettivamente per te c'è conoscendo diciamo così i meccanismi e l'ambiente un effettivo pericolo di di tenuta della maggioranza in queste ore o comunque da qui a domani che ci sarà l'intervento di draghi intanto già ieri si aspettava la cacciata di di maio che però non c'è stata no tutto congelato no non è congelato con te è leader di mezza no ma conte è un leader dimezzato tenuto in piedi con il doping del fatto quotidiano e di e di travaglio che gli dice cose oggi o ieri travaglio ha scritto questo pezzo ricordando a di maio le parole del movimento 5 stelle sull'europa sulla contrarietà l'europa sul sulla nato quando io ponevo la questione della mia coerenza per cui poi sono stato espulso e per cui ho detto no ad un governo europeista che era rappresentato dal conte 2 e anche per travaglio o anche quelli del fatto quotidiano erano partiti con i manganelli mediatici nei miei confronti adesso ricordano che il movimento 5 stelle aveva raccolto le firme contro l'euro ma del resto è tutto così a seconda della latitudine e dove ti serve ricordare quindi ti serve il vizio della memoria ecco che ritornano le vecchie frasi però questo è un governo sostenuto da gente che ha raccoglieva le firme per uscire dall'euro e da uno che andava in giro con la felpa basta euro adesso mi vengono a sostenere mario draghi cioè tutto veramente ridicolo quindi non succederà nulla perché sono dei cadregari sono dei poltronari e gente che deve arrivare alla fine della legislatura e magari prendere qualche mese in più in modo che si possono pagare le rate delle delle dei mutui da pagare ma di senso politico non c'è nulla democraticamente sono stati creati democraticamente saranno destinati all'oblio conte non è un leader non ha avuto neanche le palle per fare una supplettiva che pur ci sono state ed entrare in parlamento è un leader che sta fuori dal parlamento come può governare i gruppi parlamentari quindi poi è sempre subiudici ancora napoli non è definita la vicenda insomma il movimento 5 stelle grazie a dio e io chiedo scusa a coloro che mi hanno seguito che mi hanno votato momento 5 stelle esploderà esploderà ma esplode per colpa sua tra grillo che adesso non si capisce che posizione abbia tra conte che un po la pochette un po no quindi è la negazione di quello che doveva essere non hanno avuto il coraggio di essere forza antisistema ne faremo a meno pace ame e bonafè ce l'avete voi un po il